buongiorno a tutti benvenuti questo nuovo webinar del centro studio galeo con i partner abbiamo con noi alberto sistri che ci presenterà i partner di oggi buongiorno a tutti il webinar di oggi si intitolerà il futuro dei refrigeranti modalità d'uso e sicurezza ci illustreranno ci guideranno un po in una carrellata su quello che sarà il futuro dei refrigeranti rodolfo cavicchioli che è product manager di luve group e andrea unisi refrigeranti in direct sales leader di nippon gases fino a pochi mesi fa conosciuta meglio con il nome di rivoira all'interno del mercato italiano a moderare la discussione di oggi avremo come sempre l'ingegner marco buoni che oltre a essere il direttore tecnico del centro studio galeo segretario dell'associazione italiana dei tecnici del freddo e presidente di area che è la realtà che racchiude 26 associazioni nazionali provenienti da 22 nazioni europee e rappresenta gli interessi di 110 mila tecnici in tutta europa auguro a tutti un buon webinar e buon proseguimento benissimo questo webinar durerà circa un'ora avremo un quarto d'ora 20 minuti di presentazione per ogni partecipante e le domande vi invito a porle sono sul sul vostro schermo nella sezione domande questions ok parto io adesso ringrazio rodolfo cacchioli grazie a donna grazie a noi grazie andrea tra pochissimo parlo io e ci vediamo tra pochissimo così aspettiamo che arrivano tutti siamo a 140 iscritti attualmente quindi benvenuti a tutti incominciamo questo webinar l'atf cos'è l'atf l'atf è l'associazione dei tecnici nel freddo l'associazione che unisce tutti i tecnici circa mille tecnici in tutta italia mille aziende in tutta italia circa 10 mila tecniche che fanno parte di questa situazione chi è associato all'associazione atf ha la possibilità di avere la rivista 10 numeri della rivista avere il giornamento periodico e avere sconti su corsi assistenza telefonica inoltre io come detto sono presidente dell'associazione europea c'è il freddo area che unisce 26 associazioni da 22 stati europei ve lo dico perché tante delle cose che diremo oggi sono a livello europeo l'italia non fa altro che implementare quello che l'europa ci dice anzi vedremo che presentazione che durerà soltanto circa 10 minuti giusto per dare il tempo a tutti di arrivare siamo 160 persone iscritte partecipanti questo momento quindi un buon numero ma siamo arrivati a 350 iscrizioni oggi quindi ben molto interessante l'argomento sono in continua evoluzione siamo in un momento particolare non solo per la pandemia infatti spero che state tutti bene spero che state tutti in salute a casa in ufficio dove siate state seguendo questo webinar ma anche per il discorso della refrigerazione e condizionamento fronte di calore un argomento importante in continua evoluzione e in continua espansione c'è sempre più richiesta di refrigerazione temperatura controllata i vaccini per esempio la refrigerazione degli alimenti per esempio o l'aria condizionata siamo tutti a casa siamo tutti in ufficio comfort comfort ambientale quindi il ciascuno l'igheleo fa corsi di formazione video lezioni e anche industrie collegate convegni in particolare noi sfruttiamo corsi in tutta italia abbiamo 15 sedi in italia e in tutto il mondo tramite le nazioni unite o tramite la commissione europea in questa slide che vedete sono alcuni corsi della nigeria alcuni corsi fatti in argentina i prossimi corsi li svolgeremo in nigeria egitto malakascar questi sono i prossimi tre corsi che svolgeremo nei prossimi mesi alcuni online come potete immaginare altri in presenza in egitto a giugno dovremmo sempre usiamo condizionale essere in presenza in particolare la formazione a distanza tanto adesso viene svolto a distanza un webinar oggi siamo a distanza tutti insieme tutte le persone unite da questo sistema questa piattaforma che funziona molto bene ci permette di essere aggiornati in continuazione ma anche la formazione dei potenti dei frigoristi i nostri corsi nuovi sulle banca dati online quindi esempi pratici il nuovissimo corso che sarà il 13 aprile sui vaccini la catena del freddo sui vaccini tutti online la parte pratica ovviamente ci troviamo in aula il nostro motto oggi è restiamo a casa studiamo a casa ci vediamo per la pratica in classe questo nostro motto di oggi anche i nostri corsi sono anche alcuni registrati questo webinar sarà registrato anch'esso ritrovate sul nostro sito gaieleo-online.it questi sono i nostri ultimi corsi disponibili aggiornate martedì 2021 quindi aggiornatissimi, nuovissimi, banca dati, FGAS e licenze di trattici, idrocarburi, catena del freddo per i vaccini e trovate sul nostro sito gaieleo-online.it andate a vederli così potete vedere questi questi corsi inoltre importante oggi parliamo di nuovi refrigeranti il futuro dei refrigeranti modalità d'uso e sicurezza importantissimo real alternatives la formazione online gratuita si è fatta online ovviamente a pagamento si è fatta in classe o comunque la parte pratica ovviamente importantissima per i nuovi refrigeranti infiammabili per l'accelo 2 per l'ammoniaca per gli HFO e alla fine una certificazione volontaria un esame volontario teorico e pratico perché tutti voi possiate avere una certificazione che certifica il fatto che avete che siete preparati per utilizzare nuovi refrigeranti nuovi refrigeranti che hanno ovviamente tutto un ottimo impatto ambientale ma hanno problemi di infiammabilità alte pressioni tossicità e noi come area o settore europea di texture freddo alla vostra destra vedete il 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 certificato che potete ottenere appunto facendo svolgendo questo corso real alternatives che può essere svolto in venti nazioni europee e non solo anche il canada e la nuova zelanda hanno aderito questo per avere una certificazione unica in tutto il mondo sui nuovi refrigeranti per avere una un livello simile in tutto il mondo siamo tutti sulla stessa barca tutti utilizzeremo nuovi refrigeranti tutti dovremmo essere in grado di utilizzare nel miglior modo possibile quindi real alternatives ha 20 stati che lo utilizzano e con 17 lingue diverse incluso il russo ovviamente spagnolo portoghese italiano eccetera eccetera inglese eccetera adesso su real alternatives conosciamo volevo parlarvi due minuti sul futuro la revisione regolazione FGAS abbiamo 200 partecipanti adesso online qua con noi e volevo parlarvi questo importante appuntamento adesso noi come sezione europea area come sezione italiana tf come comunque tutti i nostri partner stiamo lavorando per la revisione cambiare l'orientazione FGAS per migliorarla ovviamente e in particolar modo adesso siamo nel periodo in cui stiamo dando tutti i nostri feedback ho visto che diversi dei nostri partner hanno dato il loro feedback direttamente alla commissione europea noi come sezione area tutti i partner area tutti i membri area di tutta Europa abbiamo dato il nostro feedback e il primo di maggio avremo la consultazione che si chiama FGAS consultation forum con la commissione europea e parleremo tutti insieme delle modifiche che verranno probabilmente definite entro dicembre quest'anno entro dicembre quest'anno avremo una proposta di regolamentazione poi avremo l'iter che andare al parlamento europeo consiglio d'europa e si stima che nel 2023 avremo una nuova regolamentazione FGAS che includerà sicuramente i nuovi refrigeranti in particolare poi il 20 aprile avremo un'intervista area commissione europea per definire proprio quello che l'area vuole l'area vorrebbe per i nuovi refrigeranti e ve lo dico velocemente cosa vorrebbe l'area l'area ha emesso ieri pubblicato ieri sul suo sito se volete andare a vedere le nuove i nuovi requisiti minimi per l'utilizzo di nuovi refrigeranti infiammabili co2 e co2 quindi ad alti passioni in particolare noi vorremmo che ovviamente tutti i tecnici 500.000 tecnici in Europa che hanno fatto il palentino frigoristi ovviamente continui ad essere ovviamente valido e che anzi che sia ovviamente riconosciuto ancora meglio in tutta Europa e che sia ancora più abbia ancora più valore ma in più oltre a FGAS un corso una certificazione sui nuovi refrigeranti infiammabili o co2 per l'anidride carbonica questo per dare una qualifica una certificazione per l'utilizzo di questi di questi refrigeranti che hanno ovviamente un basso impatto inventatole ma hanno un'infiammabilità un'alta pressione che devono essere conosciuti i tecnici 500.000 tecnici certificati FGAS ottimi preparati ma prepariamoli anche per l'infiammabilità per l'alta pressione inoltre vorremmo che i nuovi refrigeranti venissano ovviamente inclusi completamente dentro la regolamentazione quindi che sia una regolamentazione non solo sui gas refrigeranti flururati ad alto giro POP ma una regolamentazione per il refrigerante ad effetto serra, refrigeranti che sono all'impatto ambientale per l'effetto serra. Ovviamente poi viene anche l'efficienza energetica viene ovviamente se uno controlla l'impianto periodicamente con le visite periodiche controlla che non ci sia perdite controlla che ci sia un registro alla fine anche l'efficienza energetica dell'impianto ne ha dei benefici continuare ad avere un buon funzionamento i nostri buoni impianti che vengono prodotti in italia e come sapete italia è uno dei maggiori produttori mondiali dell'associazione del condizionamento i nostri buoni impianti vengono comunque continuano a funzionare il miglior modo possibile con buone efficienze con una buona eco design con una buona eco labini con una buona etichettatura energetica abbiamo svolto un mesetto fa un bel webinar su questo argomento in più vorremmo includere anche navi treni aerei all'interno della della gas gas attualmente sono esclusi inoltre perché no l'area vuole una banca dati f gas europea in italia sapete tutti che c'è una banca dati f gas visitabile consultabile su internet funziona bene c'è tutto l'elenco certificato tutto l'elenco di interventi svolti c'è gas acquistato gas recuperato gas riciclato perché non farne una banca dati europea in cui tutti gli stati possono svolgere la stessa la stessa attività attualmente soltanto la polonia l'estonia e l'italia anzi l'italia è il più completo di tutti questi perché non farne uno europeo vi invito poi al nostro 19 convegno europeo mi avvio verso la conclusione il nostro 19esimo convegno europeo sarà il 10 11 giugno online ovviamente per queste problematiche della pandemia ma anche possibilmente noi pensiamo di sì a giugno di poterci vedere incontrare anche in presenza al Politecnico di Milano lo scorso convegno che era due anni fa in presenza totale ovviamente erano 300 persone da 34 stati diversi 32 nazioni diverse quattro continenti 45 presentazioni ci sarà la commissione europea ci sarà l'epe la shrae laser come l'hri ovviamente tutte le maggiori maggiori associazioni mondiali c'era ad esempio anche la situazione giapponese cinese i nostri partner i nostri partner che conoscete saranno presenti al convegno ovviamente a parlare delle ultime tecnologie del fabio del posizionamento tutti i nuovi refrigeranti tutte le nuove tecnologie nuovi compressori nuovi evaporatori nuovi condensatori eccetera eccetera e nuove normative la rivista mi hanno parlato i prossimi corsi poi i prossimi corsi mi avvio la conclusione e ringrazio i nostri partner i nostri partner ormai da un anno e qualche mese ormai di pandemia come sapete siamo tutti i momenti qua collegati con webinar hanno svolto ormai almeno 20 webinar tutti i nostri partner hanno avuto tantissimo successo il picco di partecipanti è stato verso marzo aprile con 350 partecipanti contemporaneamente presenti oggi siamo a 200 200 partecipanti contemporaneamente presenti un ottimo risultato grazie a tutti di essere qui e lascio quindi la parola ora a rodolfo cavicchioni che ci parlerà di la nuova generazione dei refrigeranti a basso giro più p sfide e soluzioni andiamo nel vivo rodolfo grazie di essere qua l'uva grazie di essere qua partner platinum c'è lo studio che leo da da tempo grazie l'uva di aiutarci a dare informazioni a dare comunicazioni a dare istruzione a tutti a tutto il settore in italiano e in inglese oggi in italiano grazie a te Marco per l'introduzione grazie a te per l'opportunità di essere di essere qui è molto interessante anche la tua presentazione con tutte le proposte per la revisione della normativa FGAS quindi non ero conoscenza che ci fosse questo processo in atto è veramente molto interessante speriamo che i risultati siano siano quelli che ci aspettiamo tutti allora riuscite a vedere il mio schermo molto bene vediamo bene molto bene allora in questa presentazione parleremo della nuova generazione di refrigeranti a basso GWP quali sono le sfide quali sono le soluzioni in particolare rispetto a quello che è diciamo l'interesse di l'uve group in questo riguardo quindi l'uve group produttore di scambiato di scambiato di scambiato di scambiato di scambiato di calore per refrigerazione e condizionamento quindi diciamo affronteremo il tema dei refrigeranti più sotto l'aspetto legato all'utilizzo di questi nei nostri prodotti più che gli aspetti tecnici legati al refrigerante in sé sarà poi il collega di Nippon Gastis a parlare più nel dettaglio dei refrigeranti in sé delle loro caratteristiche delle sfide che questi portano e delle soluzioni che possiamo utilizzare sono Rodolfo Cavicchioli product manager come detto di l'uve group azienda multinazionale con sede in Italia produttrice di scambiatori di calore nei settori di refrigerazione e condizionamento e processi industriali brevemente l'agenda della presentazione la presentazione si svilupperà lungo questi punti vedremo brevemente un aspetto del regolamento FGAS quello che riguarda il face down come questo diciamo definisce il GWP medio del parco refrigeranti presente sul mercato dell'Unione Europea vedremo quali sono le alternative a basso GWP che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni e che abbiamo che stiamo scoprendo negli ultimi mesi quindi generazioni nuove di HFC di HFO e di Michelle delle Due e quali sono le caratteristiche che questa nuova generazione di refrigeranti hanno nel confronto soprattutto ai refrigeranti un po' più anziani e che siamo abituati un pochino di più ad utilizzare come il 404 quindi il fatto di avere un glide di temperatura e il fatto per alcuni di questi di essere classificati come categorie di sicurezza ASHA e A2L che vuol dire che sono blandamente infiammabili vedremo cosa significa progettare con i refrigeranti con alto glide e come affrontare il problema dell'infiammabilità e poi tireremo qualche conclusione allora regolamento europeo 517 2014 ormai siamo tutti abituati a vedere questo grafico il grafico che descrive il face down dei refrigeranti e quindi giusto brevemente per chiunque fosse distratto negli ultimi anni di che cosa si tratta sostanzialmente è un programma che prevede una progressiva riduzione della quantità di gas fluorurato ad effetto serra espressa in tonnellate di CO2 equivalente che può essere immessa nel mercato dell'Unione Europea con il raggiungimento del 21% di quello che era la baseline nel 2015 nell'anno 2030 il processo avviene attraverso degli step e dal primo gennaio 2021 abbiamo raggiunto il secondo importante step è il terzo in numero ma il secondo importante che praticamente ci impone di importare nel mercato dell'Unione Europea sotto forma di gas fluorurati una quantità di tonnellate di CO2 equivalenti il 45% rispetto a quella che era la quantità che abbiamo importato nel 2015 il face down come regolamento non è specifico sul refrigerante quindi non impone dei limiti nell'utilizzo di refrigeranti specifici ci sono altri aspetti all'interno del regolamento 517 FGAS che limitano l'utilizzo di alcuni refrigeranti in alcune applicazioni non è il caso del face down il face down semplicemente dice a livello globale qual è la quantità di tonnellate di CO2 equivalente che può essere immesso nel mercato lungo tutti gli step che possiamo vedere in questo diagramma questo approccio quindi quello verso la riduzione della quantità di tonnellate di CO2 equivalenti spinge i produttori di refrigeranti a spostarsi verso alternative a più basso GWP dove GWP sta per Global Warming Potential e identifica qual è il contributo del gas fluorurato d'effetto serra sull'effetto serra nel caso in cui fosse liberato in atmosfera accidentalmente che cosa significa banalmente questo? significa che se nel 2015 la quantità di refrigerante in kg venduta in Europa aveva un GWP medio di 2250 se l'obiettivo che vogliamo avere è quello del business as usual cioè vogliamo mantenere nel mercato la stessa quantità di refrigerante durante tutti i gradini del face down nel 2021 dobbiamo scendere con il GWP medio del refrigerante ad un valore nell'intorno di 950.000 quindi di nuovo non è il face down che impone l'utilizzo o meno di alcuni refrigeranti rispetto ad altri il face down non è refrigerante specific come si dice nel gergo ma dà un'indicazione di quello che è il GWP medio dei refrigeranti che possono essere immessi nel mercato dell'Unione Europea quindi che cosa vediamo? vediamo che rispetto a quelle che sono nel mercato della refrigerazione quella che è l'alternativa da cui si parte che è l'R404 abbiamo due alternative per poter rispettare quelli che sono i requisiti imposti dalla normativa il gas e dal face down le alternative ci mettono di fronte due strade molto diverse la prima è quella in cui ci allontaniamo dai refrigeranti fluorurati andiamo verso i refrigeranti naturali che possono essere CO2, possono essere idrocarburi, possono essere ammonia che può essere acqua, altri refrigeranti diciamo che questa parte meriterebbe una presentazione specifica e dedicata oppure l'alternativa, quella più vicina alla sostituzione pura dell'R404 oltre a quella di andare verso miscele o soluzioni HFC-HFO che hanno però un più basso GWP l'R404 ha un GWP di circa 4000 le soluzioni che dobbiamo andare a cercare devono andare in una direzione in cui cercando di mantenere costante l'efficienza del sistema andiamo a ridurre però l'impatto diretto che può avere il refrigerante se liberato in atmosfera quindi il suo GWP ed è qui che nasce la nuova generazione di HFC-HFO a basso GWP oggi e per oggi intendo negli anni dal 2016 quando è entrato nel vivo il regolamento FGAS abbiamo visto apparire nella tecnica come alternativa all'R404 alcuni refrigeranti che non conoscevamo erano l'R448A, 449A che alla ricerca di quella riduzione del GWP che era necessario per riuscire a rimanere all'interno dei paletti dell'EFGAS avevano un GWP di circa 1400 e lo vediamo, l'ho indicato qui domani per via di quello che ci siamo detti quindi il fatto che abbiamo raggiunto un gradino che ci ha posato al 45% del livello che avevamo nel 2015 e questo 45% si traduce in un GWP medio di circa 1000 questo 1400 di questi refrigeranti non va più tanto bene quindi dobbiamo cercare di spostarci verso qualcos'altro ed è per questo che sono apparsi nel mercato nuovi refrigeranti questi nuovi refrigeranti sono per esempio l'R455A, il 454C, A, B e C qua ce ne sono diversi sono refrigeranti caratterizzati da un GWP molto più basso rispetto a quello che avevano i vecchi 448 e 449 stiamo parlando di meno di 200 GWP ma poiché sono miscele che a loro interno hanno componente infiammabile sono classificati A2L quindi sono refrigeranti che sono all'interno della categoria di sicurezza A2L mildly flammable e per i quali alcune particolari attenzioni vanno tenute in considerazione quindi vediamo questi due aspetti che sono caratterizzanti di queste alternative HFC, HFO o miscele delle due che hanno questi refrigeranti più basso GWP quindi la prima è quella di avere un glide di temperatura che è comune sia alla generazione, diciamo quella che utilizziamo comunemente oggi sia alla generazione che utilizzeremo con più frequenza da oggi in poi e poi anche il tema dell'infiammabilità vediamo, introduciamo il tema del glide di temperatura che cos'è il glide di temperatura e come trattarlo per parlare del glide di temperatura è necessario fare questa piccola premessa gli HFC, quindi idrofluorocarboni o idrofluoro alle fine possono essere di due tipi possono essere componenti puri quindi composti da un unico componente un caso è per esempio l'R134A utilizzato nel airconditioning dei veicoli nel passato oppure possono essere miscele quindi miscele di HFC di componenti diversi HFC e HFO all'interno di questa categoria è necessario fare un'altra differenziazione e dividere in tre categorie il gruppo delle miscele le miscele possono essere azeotropiche che vuol dire che i componenti che compongono la miscella hanno un punto di evoluzione simile quindi che la miscela ha un punto di evoluzione costante un esempio di questo è l'R507A possono esserci miscele che sono quasi azeotropiche che vuol dire che il comportamento della miscela è diciamo così paragonabile in termini pratici a quello di una miscela azeotropica oppure possono esserci miscele zeotropiche le quali componenti hanno punti di evoluzione diversi e quindi praticamente si traduce che la miscela ha un punto di evoluzione variabile un esempio di questi fluidi sono l'R407C che era un refrigerante che avevamo imparato a conoscere nel passato come alternativa all'R22 prima dell'R404 oppure appunto i nuovi 448, 449, il 455 e i nuovi refrigeranti insomma alternativi al 404 nella refrigerazione vediamo che cos'è quindi praticamente il glide il glide come detto è la differenza che c'è nella temperatura tra il dew point a bubble point a pressione costante e lo vediamo qui in questo diagramma qui abbiamo un diagramma a pressione e entalpia nel quale abbiamo identificato sia il dew point sia il bubble point il dew point non è altro che il punto in cui incrociamo la curva del vapore saturo il bubble point è il punto in cui incrociamo la curva del liquido saturo come vediamo in un refrigerante senza glide quindi in questo caso qui le isoterme all'interno della campana del refrigerante hanno un andamento perpendicolare parallelo a quello che è l'andamento delle isobare quindi non c'è nessuna differenza di temperatura in un processo a pressione costante in un refrigerante senza glide viceversa se ci spostiamo e andiamo a considerare un refrigerante ad alto glide vediamo come le isoterme perdano la loro caratteristica di essere parallele all'isobare sotto la campana e quindi abbiamo che in un processo che avviene a pressione costante ci ha una variazione di temperatura in particolare in un processo di evaporazione quindi nel quale ci spostiamo dal bubble point al dew point in questa direzione verso destra a pressione costante abbiamo un passaggio dalla temperatura T1 alla T2 quindi un aumento di temperatura visto che le isoterme aumentano in questa direzione viceversa in un processo di condensazione che avviene nella direzione opposta si ha una diminuzione di temperatura come si traduce praticamente questo andando a dimensionare uno scambiatore di calore si traduce che se andiamo a dimensionare uno scambiatore di calore così come siamo abituati a fare al dew point qui ho voluto passare dal diagramma pressione entalpia ad un diagramma temperatura entalpia per apprezzare di più la differenza che c'è nell'utilizzo di un refrigerante senza glide rispetto a quello di uno con glide e vediamo che dimensionare uno scambiatore andando a considerare come punti di lavoro la temperatura di evaporazione e la temperatura di condensazione dew point per un refrigerante senza glide è molto diverso rispetto a quello che otterremmo con un refrigerante ad elevato glide in particolare considerando come punti di lavoro per il dimensionamento dew point avremmo che il glide di temperatura di una miscela zeotropica mi va a ridurre il delta T al condensatore il delta T non è alto che l'area sottese tra la temperatura dell'area con cui scambia il mio condensatore ventilato e la temperatura di condensazione quindi questa area qui nel caso di refrigerante ad elevato glide diminuisce rispetto a quella che è l'area che avremmo nel caso di refrigerante senza glide e questa perdita di delta T è direttamente proporzionale alla perdita di capacità del mio scambiatore viceversa avrò un aumento del delta T all'evaporatore con un aumento di capacità all'evaporatore è chiaro che confrontare queste due situazioni è come confrontare per e con patate nel senso che è vero che il punto che stiamo considerando per il dimensionamento quindi il dew point è uguale ma è anche vero che per via della caratteristica che ci siamo detti quindi che il glide di temperatura mi aumenta la temperatura durante il processo di evaporazione e me la diminuisce durante il processo di condensazione è vero che le caratteristiche medie operative dello scambiatore sono molto diverse in un caso rispetto all'altro quindi come facciamo a ovviare a questo problema a risolvere questo problema e rendere il dimensionamento di un refrigerante con glide paragonabile a quello di un refrigerante senza glide e ci viene in aiuto in questo caso il min point invece del dew point quindi invece di dimensionare sul dew point quindi punto di fine evaporazione tralasciando il suo riscaldamento è punto di inizio condensazione se invece di utilizzare questi punti che sono quelli che siamo comunemente abituati ad utilizzare perché normalmente utilizziamo refrigeranti con pochissimo glide o con zero glide e passiamo invece a considerare il min point che per definizione è la temperatura media dei processi di evaporazione e condensazione possiamo andare a diciamo così ad annullare quello che è l'effetto medio del glide di temperatura quindi dimensionare il min point ci permette di dimensionare evaporatori e condensatori permettendo di confrontare prestazioni di diversi refrigeranti nelle stesse condizioni operative medie quindi sostanzialmente l'utilizzo del min point ci consente di avere uno scambiatore che lavora in condizioni medie simili rispetto a quello che è il refrigerante senza glide questo è il tema che cosa va tenuto in considerazione però nel dimensionamento con il min point è chiaro che andando a dimensionare con il min point non dobbiamo dimenticarci di quello che è uno degli aspetti fondamentali di uno scambiatore di calore come l'evaporatore l'evaporatore ha l'obiettivo di far evaporare il refrigerante come dice la parola stessa e di garantire che non ci sia nessuna nessuna goccia di refrigerante liquido che possa andare a disturbare il compressore per questo motivo è necessario che il surriscaldamento sia garantito come è possibile garantire il surriscaldamento il surriscaldamento deve essere garantito verificando che il DT1 che per definizione è la differenza di temperatura che c'è tra il due point e la temperatura dell'ambiente con cui stiamo scambiando calore sia sufficientemente ampio se questo DT1 è troppo limitato per poter garantire il surriscaldamento e il controllo dell'evaporatore si rischiano due problemi uno è in fase di dimensionamento quindi significa che andare a lavorare in un min point tale che il mio DT1 è troppo stretto a livello di calcolo e affidabilità del calcolo se questo DT1 è troppo piccolo c'è il rischio che il calcolo non sia affidabile molto più grave è l'altro aspetto quello legato a operatività sul campo lavorare con un DT1 troppo stretto significa far lavorare male l'evaporatore significa che la valvola di espansione continuerà a chiudersi per cercare di raggiungere il set point e alla fine lavoreremo con una grossa parte dello scambiatore che lavorerà su riscaldata causando un calo drastico delle prestazioni per cui min point calcola il min point per il dimensionamento e utilizzare il min point per far lavorare l'impianto è senz'altro utilissimo nel caso di refrigeranti con glide rispetto a quelli senza glide bisogna però tenere in considerazione l'aspetto legato al suo riscaldamento quindi verificare che il dt1 che è la differenza di temperatura tra il due point e l'ambiente sia sufficientemente ampio come vediamo qua giusto per rendere la cosa ancora più chiara in un refrigerante senza glide il mio dt1 questa differenza qua è sufficientemente ampio per garantire il suo riscaldamento nel caso di refrigerante con glide nonostante io stia considerando lo stesso min point per via della caratteristica che ci siamo detti il mio dupoint è molto più in alto come livello di temperatura questo vuol dire che il mio dt1 in questo caso è molto più stretto se è stretto 1, 2, 3 gradi non è sufficientemente largo per poter garantire un appropriato sul riscaldamento del refrigerante e quindi far lavorare lo scambiatore in modo efficiente e sicuro il secondo aspetto di queste nuove miscele come detto è quella dell'infiammabilità per poter garantire il funzionamento sicuro i prodotti i componenti per la riferirazione devono prevedere devono prendere in considerazione il problema dell'infiammabilità per poter essere conformi all'utilizzo di refrigeranti A2L sono necessari componenti e design specifici e speciali quindi non si può trattare il refrigerante A2L come un refrigerante normale moltissimi dei componenti devono prevedere attenzioni e design specifico per lavorare con questi refrigeranti e quello che voglio dire è che l'Uve Group come produttore di scambiatore di calore ha sviluppato una gamma di aerorefrigeranti commerciali disponibili già sul software di selezione certificati per l'utilizzo di refrigeranti A2L cosa vuol dire? Vuol dire che questa gamma di prodotti ha superato tutta una serie di test fatti con l'ausilio di laboratori terzi che garantiscono la sicurezza sia nella configurazione con sbrinamento neutro sia nella configurazione con sbrinamento elettrico per l'utilizzo di refrigeranti classificati blandamente infiammabili quindi per fare qualche conclusione so che abbiamo visto tante cose cerchiamo di tirare un po' le somme il primo gennaio 2021 abbiamo assistito al secondo grande importante step nella riduzione graduale dei gas fluorurati ed effetto serra che ha portato il numero totale di tonnellate di CO2 equivalente che può essere immesso nel mercato dell'Unione Europea sotto forma di refrigerante al 45% di quello che era il valore che aveva all'inizio del processo nel 2015 per poter utilizzare e importare nel mercato la stessa quantità di refrigeranti in termini di chilogrammi all'interno del mercato il GWP medio dei refrigeranti per via di questa riduzione dovrà essere inferiore a 1000 i gas fluorurati alternativi al 404 che utilizziamo oggi hanno un GWP di circa 1500 ed è per questo che sono nati nuovi refrigeranti questi nuovi refrigeranti sono miscele di refrigeranti già esistenti e hanno il GWP più basso di circa 200 ma si portano con sé qualche come si può dire effetto collaterale chiamiamolo così anche se non è un problema basta solo saperlo trattare e sono un glide di temperatura che può essere in alcuni casi molto ampio e il fatto di essere blandamente infiammabili per quello che riguarda il glide di temperatura per poter rendere le cose un po' più semplici possiamo utilizzare nei calcoli di dimensionamento e nei calcoli per il design il min point invece del due point dove il min point è il punto medio dei processi di evaporazione e condensazione invece che del punto di fine evaporazione e inizio condensazione questo ci permette di confrontare le prestazioni e le caratteristiche di due refrigeranti molto diversi dal punto di vista pratico che lavorano però in condizioni operative medie simili quando però si lavora con il min point è necessario tenere in considerazione verificare che ci sia un DT1 abbastanza ampio da garantire un appropriato surriscaldamento di refrigerante per quello che riguarda invece l'altro aspetto della infiammabilità è necessario lavorare con un partner che abbia preso in considerazione il problema che abbia sviluppato gamme di prodotti adeguati per l'utilizzo in sicurezza di questi refrigeranti e l'UV è uno di questi grazie a questa gamma nuova di refrigeranti di aeroevaporatori commerciali che permette di lavorare in tranquillità con i refrigeranti blandamente infiammabili A2L ok io con questo finito sono aperto ad ogni grazie grazie mille Rodolfo siamo 220 persone che stanno seguendo il webinar quindi un ottimo risultato un'ottima presentazione parlato in maniera ottima degli A2L come modalità d'uso la seconda parte invece sulla sicurezza la lasceremo poi appunto a Nippongassi abbiamo delle domande grazie mille a chi parla anzi abbiamo tante domande ok vai tutte tue Alberto facciamo le domande a Rodolfo più difficile possibile mi raccomando assolutamente abbiamo ricevuto come sempre diverse domande sull'intervento di Rodolfo Cavicchioni ricordo a tutti che oltre anche chi ci segue tramite cellulare o tablet cliccando sullo schermo e poi sul punto di domanda può porci domande che noi leggiamo poi in diretta o che recupererebbe in un secondo momento innanzitutto l'ultima domanda ci arriva da Alberto che ci chiede a seconda del progetto il Glide può essere un vantaggio? il Glide può essere un vantaggio sì il Glide è una caratteristica del refrigerante che può in alcuni casi portare ad alcuni vantaggi può in altri casi essere un problema l'importante è sapere che si sta lavorando con un refrigerante che ha queste caratteristiche e ha questo comportamento in evaporazione e condensazione e che e che questo richiede un'attenzione diversa però assolutamente in alcuni aspetti può essere una può essere questa caratteristica può essere un vantaggio quindi non è da infatti non volevo trattarlo come un problema volevo trattarlo come una una caratteristica che va conosciuta e va trattata come un problema di grosso impatto perché questo alla fine è una caratteristica fisica che impatta sensibilmente sull'operatività soprattutto durante i processi di cambio di fase per cui sì mi viene in mente scusa per esempio un processo di evaporazione dove per esempio a servizio di una cella per la conservazione della frutta in queste condizioni per esempio temperature e umidità sono fondamentali per mantenere lo stato della frutta in buono stato e lavorare con un refrigerante con glide può portare per via della caratteristica di aumento di temperatura durante il processo di evaporazione può portare ad una temperatura media di evaporazione più bassa rispetto a quella che avevamo nell'utilizzo utilizzando un refrigerante come l'Air 404 e questa riduzione di temperatura media fa sì che diminuisca cioè aumenti l'effetto di umidificante dell'evaporatore andando a compromettere un po' quello che è l'equilibrio del termoigrometrico della cella quindi in questo caso per esempio può essere un danno a servizio invece di una cella in cui non c'è necessità di mantenere l'umidità relativa così controllata l'avere una temperatura media sullo scambiatore inferiore può essere anche un vantaggio ecco questi sono i due aspetti della faccenda Rodolfo la dice Sandro la chiede Sandro esatto ci ha scritto Sandro beh innanzitutto fa i complimenti per la presentazione cosa che ci fa ci fa sempre piacere secondariamente ci chiede si possono coniugare sbrinamento elettrico da una parte e i refrigeranti infiammabili servono ventilatori Atex allora la differenziazione va fatta tra refrigeranti infiammabili di classe A2 A3 e refrigeranti A2L per quello che riguarda i ventilatori se i ventilatori sono elettronici e sono diciamo testati non è necessario che siano Atex per per fare un esempio abbiamo testato la nostra gamma di ventilatori nella nostra famiglia di evaporatori commerciali che sono pronti per l'utilizzo di refrigeranti A2L e questa gamma di ventilatori non è Atex ma è come si dice sicura per l'utilizzo di refrigeranti sia A2L sia A2 sia A3 quindi non è necessario che il ventilatore sia elettronico scusi sia Atex è necessario tendenzialmente che il ventilatore sia elettronico per limitare il più possibile tutte quelle che possono essere le scariche e tutte le possibili fonti di iniezione per il gas refrigerante per quello che riguarda lo sbrinamento elettrico è necessario rimanere all'interno di quelli che sono i limiti imposti dalla massima temperatura dalla minima temperatura di infiammabilità del refrigerante per cui questo è facile da raggiungere nel caso di refrigeranti A2L per cui una resistenza elettrica che può raggiungere 700 gradi è abbinabile a un refrigerante A2L perché questa temperatura non è sufficiente per accendere un refrigerante A2L è chiaro che nel caso di un refrigerante A2L3 dove l'energia e la temperatura per l'iniezione è molto più bassa se bisogna un attimino di rivedere la soluzione non sto dicendo che non sia compatibile sto dicendo che probabilmente la potenza che normalmente i produttori utilizzano come resistenze elettriche va un pochino rivista per poter ridurre la temperatura alle quali queste resistenze arrivano grazie ottimo grazie una risposta siamo un po' lunghi lascerei la parola adesso ad Andrea Ulivi di Nippon Gasius se la regia può farlo entrare parlerà di sicurezza con gli A2L un argomento importantissimo abbiamo altre domande per Rodolfo le vediamo poi nel dibattito alla fine del meeting abbiamo un po' di tempo poi anche dopo arriveremo un po' lunghi o sulle giorni 10 quindi stai tutti collegati abbiamo 220 persone collegate ancora quindi diciamo che l'argomento importantissimo è interessantissimo per tutti quindi lascio la parola ad Andrea Ulivi di Nippon Gasius con Nippon Gasius abbiamo una lunghissima collaborazione mi ricordo ancora Ennio Campagna che da 30 anni che viene a nostri corsi a parlare dei rifageranti tutti i tipi di rifageranti parliamo prima dell'ozono adesso del cambiamento climatico adesso dell'O2L quindi sono 30 anni che viene ai nostri corsi a parlare di rifageranti dando un ottimo contributo come Rivoire a Nippon Gasius ai nostri corsi grazie sempre a Nippon Gasius per darci una mano ai corsi grazie Marco grazie della tua presentazione e grazie soprattutto di averci ospitato è per noi un piacere come sempre allora io per Nippon Gasius Refrigerance mi occupo dello sviluppo di nuovi prodotti a basso impatto ambientale e di seguire commercialmente le vendite indirette su tutto il territorio italiano nella nostra presentazione andiamo appunto a vedere un attimino qual è la nostra storia qui vedete la territorialità di Nippon Gasius Refrigerance e i nostri fornitori di riferimento Nippon Gasius Refrigerance non è nient'altro che il nuovo nome di Rivoira che probabilmente è ancora un po' più conosciuto sul mercato italiano qui vedete il nostro nuovo stabilimento di Alessandria con 300 tonnellate di capacità stabilimento che Nippon Gasius Refrigerance ha deciso di costruire proprio perché la Fgas ci impone di utilizzare prodotti a sempre più basso impatto ambientale e quindi prodotti della gamma A2L e qui abbiamo uno stoccaggio di 200 tons di prodotti dedicato per almeno 200 tons ai prodotti della gamma A2L vai pure avanti abbiamo appena citato il regolamento Fgas cosa ci dice il regolamento Fgas il regolamento Fgas ci dice che da qui al 2030 dovremo andare a ridurre del 79% le emissioni di gas serra come facciamo riducendo le emissioni sul mercato e quindi riducendo l'importazione di prodotti ad alto impatto ambientale riducendo l'utilizzo di prodotti ad alto impatto ambientale nuovi sistemi e la proibizione d'uso in manutenzione di tutti i prodotti che hanno un GW WP superiore al 2005 come già detto da Rodolfo noi siamo esattamente nel secondo salto verso il basso della disponibilità di taglio previsto dall'EFCAS questo taglio è estremamente impattante perché come detto ci impone di ridurre in maniera importante il GWP dei nostri prodotti e quindi di andare sempre di più ad utilizzare prodotti a basso impatto ambientale quindi il nostro mondo si divide in due grandi gruppi restrizione d'uso in nuovi sistemi dove vedete ci sono a seconda della tipologia di impianto e la tipologia di utilizzo dell'impianto un GWP massimo da rispettare che per il primo gennaio del 2021 2022 perdonate ci imporrà di andare ad utilizzare prodotti con GWP inferiore a 150 per tutte le situazioni commerciali prego mentre in manutenzione la restrizione è relativa a tutti i prodotti con GWP superiore a 2005 quindi in manutenzione dovremo andare ad utilizzare prodotti con GWP inferiore a 2005 potremmo ancora utilizzare ovviamente come dico sempre in queste in queste situazioni noi ci dobbiamo ricordare che si può utilizzare anche prodotto con GWP superiore a 2005 ma solo se rigenerato prego qui vediamo il controllo delle perdite e altro aspetto che ci impone giustamente l'EFGAS perché il controllo delle perdite il controllo delle perdite ci è estremamente utile per evitare ai sensi dell'EFGAS appunto di disperdere prodotti in ambiente quindi un corretto controllo delle perdite porta a una riduzione efficace dell'emissione in ambiente di prodotti ad alto impatto ambientale e qui vediamo la tabella dei nostri prodotti l'abbiamo divisa in tre grandi gruppi refrigerazione chillers heat pump e condizionamento in refrigerazione come vedete in nero abbiamo indicato il 404 che è il prodotto che va a scomparire insieme all'R507 i sostitutivi in azzurro non flammable e in arancione i prodotti sostitutivi a bassissimo impatto ambientale della gamma 2L cioè blandamente infiammabili stesso discorso per quanto riguarda chillers heat pump in questo caso vediamo che il 134 scusa puoi tornare un attimo indietro che il 134 ha due sostituti non flammable e uno invece blandamente infiammabile come lo ZE è da notare per il comparto del 410 che non esiste un sostituto non flammable per il 410 oltre a questo ovviamente ci sono gli idrocarburi e la CO2 che nipponghesi refrigerants commercializza come tutti gli altri prodotti della gamma che vedete qui riepilogati prego perfetto allora qual è la grande novità ormai da un po' di tempo in essere che la gazzetta ufficiale ci ha decretato come vedete che si possono utilizzare i prodotti della gamma A2L in locali aperti al pubblico come mi vengano in mente i locali che più di tutti in questo momento sono all'attenzione di tutti per motivi diversi cioè scuole ed ospedali prego qui abbiamo riepilogato in maniera un po' più specifica il passaggio che stiamo andando a vivere cioè abbiamo già fatto il passaggio da R404 a miscele sostitutive dell'R404 come il 448 il 449 e il 407 H che però come vedete hanno tutte un GWP intorno ai 1400 punti e quindi ora dobbiamo passare alle nuove miscele con GWP inferiore ai 150 punti di CO2 perché questo è quello che ci chiede l'EFGAS per ridurre l'emissione in atmosfera e quindi avere un ambiente salvaguardare l'ambiente in cui noi viviamo la caratteristica come diceva giustamente prima Rodolfo di queste nuove miscele è che fanno tutte parte dalla gamma A2L quindi blandamento infiammabile prego stesso discorso per quanto riguarda le chillere pompe di calore in questo caso come vedete ci sono i tre prodotti principali che hanno adeguati sostituti per il 134 che sono il R513 il R515B non flammable e l'HFO1234ZE che è una A2L i sostituti del 407C che però ha un'importanza leggermente inferiore perché è ormai diventata una nicchia ricopre una nicchia di mercato mentre sono estremamente importanti scusate potete tornare sulla slide precedente un attimo sono estremamente importanti sostituti del 410 perché sicuramente l'R410 ad oggi ha ancora una quota di mercato estremamente importante estremamente rilevante e è importante anche ricordarsi che non ha sostituti non flammable come potete vedere infatti tutti i nuovi prodotti che andranno a sostituire e stanno già sostituendo in larghissima parte l'R410 appartengono tutti alla gamma A2L prego perché A2L perché questi prodotti ci consentono appunto di rispettare in maniera importante le politiche ambientali che l'Europa e fortunatamente non solo l'Europa sta seguendo e quindi di rispettare il regolamento F-Gas con le restrizioni d'uso relative ai refrigeranti e perché sono al di là dei gas naturali che ovviamente ben conosciamo sono la risorsa che la ricerca portata avanti dall'industria a livello mondiale ci ha dato per andare a sostituire i nostri prodotti con un impatto minore sulla sulle tecnologie che stiamo adottando prego due parole sulla combustione e l'infiammabilità quindi per combustione appunto è la definizione di processo di ossidazione di un combustibile da parte di un comburente con rilascio di energia e infiammabilità è la proprietà di una miscela che definisce la sua capacità di iniziare e sostenere una combustione i parametri per la classificazione dell'infiammabilità che è quello che ci interessa riguardo gli A2L sono appunto il limite inferiore di infiammabilità cioè il limite minimo di concentrazione oltre il quale una miscela di gas e aria può essere innescata quindi può essere infiammabile l'energia minima di innesco che serve appunto per innescarla la velocità di fiamma che è un parametro fondamentale per definire gli A2L cioè la velocità con la quale la fiamma si propaga e il calore di combustione cioè la quantità di energia rilasciata quando una sostanza brucia prego noi in questo momento ci occupiamo dei prodotti della sottoclasse A2L quindi i prodotti della sottoclasse A2L sono decisamente meno infiammabili perché hanno una velocità di fiamma molto minore e necessitano di un'energia di iniezione molto maggiore rispetto ai prodotti della classe A3 per questo è stata creata una classe apposita per questi prodotti che meritavano appunto una valutazione completamente diversa prego ottimo allora in questo caso avremmo visto che incendiando riempiendo questo ambiente di R600 cioè isobutano e incendiandolo avremmo visto il sacchetto di contenimento sopra la scatola espandersi completamente e le palline da ping pong poste sul ripiano saltare in aria a grandissima velocità proprio a dimostrare la alta infiammabilità dell'R600 e la alta velocità di fiamma di questo prodotto nella slide successiva andiamo già abbiamo la percezione di una pericolosità estremamente inferiore dovuta alla presenza dell'operatore stiamo parlando in questo caso del YF HFO 1234 YF che è uno dei prodotti poi utilizzati per comporre le altre miscele di A2L in questo caso incendiando il il prodotto dopo aver saturato l'ambiente praticamente avremmo visto che le palline da ping pong restano assolutamente ferme e che il sacchetto sopra l'ambiente di contenimento sarebbe rimasto si sarebbe appena mosso perché perché la differenza tra i due prodotti è di una velocità di fiamma nel primo caso dell'RS100 di circa 50 cm al secondo nel secondo caso del YF è di 1,5 cm al secondo quindi già da questi numeri è evidente che i due prodotti hanno una pericolosità assolutamente diversa per utilizzare poi questi prodotti come Nippon Gasis Refrigerant siamo in grado di supportarvi con un'azienda con cui collaboriamo che è in grado di gestire di volta in volta la situazione per fare con voi un risk assessment al di là di questo ci sono dei principi generali di cui dobbiamo tenere presente di cui dobbiamo tener conto e prima di tutto la categoria di occupazione che si divide in categoria A occupazione generale categoria B supervisionata e C autorizzata ovviamente più è ristretto l'accesso a un ambiente e più le quantità di prodotti a 2L che potremmo utilizzare saranno elevate questo ci consentirà quindi di andare ad utilizzare i prodotti della gamma a 2L sia per refrigerazione sia per climatizzazione in una vastissima gamma di applicazioni senza avere rischi e quindi senza e quindi nel rispetto massimo della legge prego nella slide successiva ci vediamo anche l'altra classificazione importante per fare appunto il calcolo della quantità del prodotto che possiamo andare ad utilizzare nei nostri impianti e ancora una volta vediamo che più la classe del prodotto è elevata e più saranno sarà possibile utilizzare una quantità maggiore di prodotto prego la somma di la classi viene poi riepilogata nella tabella EN 378 dove appunto sommando la classe di infiammabilità di prodotto la categoria di occupazione e lo scopo d'uso del prodotto e la classificazione del locale siamo in grado di fare con con voi una valutazione della quantità di prodotto utilizzabile a seconda appunto dell'impiego che verrà fatto dell'impianto e a seconda del posizionamento dell'impianto dove in alcuni casi come vedete riepilogato nella tabella stessa si può arrivare anche a nessun limite di carica io ringrazio marco per per avermi supportato e mi scuso per il blocco della della presentazione che sicuramente era soltanto una questione di di linea e c'era soltanto un video che non sei riuscito a vedere volevo far vedere a tutti che abbiamo un sistema di calcolo in area vedete sul vostro schermo area un sistema di calcolo per il calcolo dei limiti di sicurezza con l'aere 178 vi faccio dare direttamente il mio cellulare per vedere che scaricando questa app potete fare tutti questi calcoli direttamente online mettendo appunto i limiti di carico di raffigerante mettendo anche l'occupazione eccetera eccetera l'accesso quindi quello che è stato fatto vedere da Ulivi precedentemente io direi che abbiamo delle domande o ne ho viste anzi le lamparecchie domande toglierei lo schermo adesso e lascerei spazio le domande per Andrea Ulivi giusto Alberto? sì assolutamente ci sono arrivate diverse domande partirei con quella di Alberto che ci chiede quale quantità è ammessa oggi all'interno di un circuito come ho detto come ho detto prima dipende da da dove andiamo a posizionare il circuito sia dal punto di vista dell'utilizzo sia dal punto di vista dell'ambiente della metratura dell'ambiente quindi è un calcolo che va fatto di volta in volta se poi andiamo a parlare della normativa che riguarda la macchina faccio l'esempio cioè la macchina per il banco per il gelato allora lì per il momento dobbiamo ancora stare sotto i 150 grammi perché la legge prevede il rispetto della normativa per lo standard di prodotto ma non per la EN 378 quindi come dicevo prima se per lo standard di prodotto dobbiamo stare sotto i 150 grammi a meno che non venga rivisto lo standard di prodotto del singolo produttore altrimenti per la EN 378 si può arrivare a seconda del prodotto a seconda del metraggio dell'ambiente in cui viene messo l'impianto si può arrivare anche ad alcuni chili di utilizzo del prodotto ottimo procederei allora con la domanda che ci ha fatto Raffaele in realtà una domanda divisa in due in due parti Raffaele ci chiede un rooftop HVAC come viene classificato specificando che è esterno ma collegato con canali aria all'interno di nuovo anche in questo caso dobbiamo andare a vedere la specificità dell'utilizzo nel senso che non posso dare una risposta semplice nel senso singola dobbiamo andare a vedere come viene utilizzato questo rooftop e poi dopo in quale ambiente si va a portare il prodotto a 2L va un attimino visto sempre per il momento poi mi auguro che anche il vostro lavoro a livello europeo ci aiuti in questo va visto di volta in volta facendo una valutazione in funzione dell'ambiente dove andiamo ad installare la macchina ultima domanda poi passiamo al dibattito abbiamo ancora 210 persone collegate direi che anche questa domanda qua è simile quella di Giuseppe se vuoi farla anche questa si è concettualmente concettualmente simile allora Giuseppe innanzitutto ci chiede tra la 378 e la IEC 60335 e 240 quale delle due normative è più è più stringente successivamente Antonio faccio calcolare le domande ci dice che pensava che il limite di 150 grammi fosse già passato a 500 allora il limite di 150 grammi è già passato a 500 a livello europeo perché è stato approvato deve essere recepito dalle varie normative dei singoli paesi appartenenti alla comunità europea quindi di fatto ancora non è non è applicabile su tutti su tutti i paesi dipende dalla normativa del singolo paese per rispondere alla domanda dell'altro collega diciamo che la EN 378 ci dà una maggiore possibilità di azione chiaramente all'interno di un risk assessment come nipponghesi refrigerants abbiamo più volte affrontato l'argomento con alcuni clienti stiamo portando avanti alcune importanti diciamo nuove installazioni dove si arriva anche all'utilizzo di circa 60 kg di prodotti a 2L e quindi quantità che sono assimilabili ai prodotti della gamma A1 che abbiamo utilizzato fino adesso ottimo molte grazie benissimo abbiamo ancora del tempo per fare delle domande nel dibattito penso che vedete anche il mio schermo non mi sbaglio vero? sì assolutamente perfetto allora volevo fare un dibattito finale sia con Rodolfo che è tornato tra noi eccoci qua Rodolfo ci senti ci vedi sì forte e chiaro benissimo siamo un po' lunghi ma abbiamo ancora 200 persone 196 per esattezza presenti a questo dibattito che è importante in particolare abbiamo delle domande molto interessanti in particolare ci manda una domanda per entrambi Marco che ci chiede ma se io ho un impianto esistente e voglio sostituire e inserire un gas A2L devo riprogettare tutta la macchina tutto il circuito cosa diciamo Marco? chi vuole dire a Marco cosa fare? potrei dirlo anch'io però voglio che venga da voi questa risposta allora io diciamo che come nipponghesi refrigerants mi limito a rispondere per quanto riguarda la parte relativa al fluido e cioè i prodotti A2L non sono prodotti da retrofit quindi perché? perché essendo A2L non posso andare ad utilizzarli all'interno di un impianto nato per un prodotto della gamma A1 l'esempio che abbiamo tutti quanti in mente è l'utilizzo di R32 all'interno dello split nato per R410 è un qualche cosa che non è assolutamente fattibile perché perché si va ad utilizzare ripeto un prodotto della gamma A2L quindi blandamente infiammabile tra l'altro l'R32 tra gli A2L è l'infiammabile con velocità di fiamma sempre molto ridotta ma maggiore perché arriva a circa 7 cm all'interno di un impianto nato per una macchina per un prodotto A1 e quindi non infiammabile e poi magari per la parte della riprogettazione sicuramente Rodolfo è molto più preparato di me Rodolfo vuoi dire qualcosa? no allora è giustissimo quello che dice Andrea quindi no tendenzialmente il retrofit con questi refrigeranti non si può fare quindi al di là di quelle che sono le caratteristiche di sicurezza di un A2L rispetto a uno a uno che vanno senza altro presi in considerazione poi ci sono tutti quegli aspetti che riguardano la diciamo interazione relativa tra il refrigerante e i componenti di impianto quindi guarnizioni varie temperature di scarico compressori che è in per quanto possono essere simili a quelli di refrigeranti che stiamo andando a retrofittare tendenzialmente non lo sono per cui no non si può fare retrofit anche con refrigeranti molto simili come R410 e R32 è molto pericoloso al di là della caratteristica di sicurezza c'è proprio l'aspetto legato alle temperature di scarico del compressore che sono più alte e alcune interazioni nell'impianto che non rendono compatibili due refrigeranti che sono molto simili il 410 a metà R32 al suo interno per cui no non si può fare ecco collega anche un'altra domanda per il recupero del refrigerante che la trattatura deve utilizzare anche lì ovviamente potremmo consigliare di utilizzare della trattatura particolare per questi raffinanti a 2L assolutamente sì devono essere utilizzati tutti impianti che ci consentono di gestire questi prodotti in sicurezza e ringrazio l'ascoltatore per questa domanda perché volevo anche fare una piccolissima parentesi legata proprio a questo cioè non si può più andare a saldare in esalazione di gas come molti sono abituati a fare perché comunque stiamo parlando di un prodotto infiammabile di prodotti infiammabili quindi questa abitudine legata anche alla necessità di fare gli interventi in tempi sempre più ristretti deve essere rivista e quindi assolutamente da evitare per quanto riguarda Nippon Gasis Refrigerance è già in grado di fornire ai propri clienti le bombole per il recupero dei prodotti a 2L quindi di bombole evidenziate con ogiva rossa per i prodotti a 2L e anche di gestire il recupero e la rigenerazione di questi prodotti perché stiamo appunto sviluppando i nostri impianti in tal senso ottimo c'è Stefano che chiedeva per l'Uve se i software di selezione già sono pronti per i nuovi a 2L e mi ricordo che la tua presentazione hai detto chiaramente sono già tutti i software sono già inclusi ovviamente gli a 2L giusto Adolfo? Allora giusto un appunto l'ultima versione pubblica del software non ha ancora la nuova gamma quindi non sono non ci sono nella versione disponibile sul mercato i refrigeranti a 2L stiamo testando la versione nella quale abbiamo aggiunto questi refrigeranti quindi a brevissimo sarà disponibile le macchine sono già quindi la gamma è già diciamo producibile e vendibile quindi nel caso ci sia una richiesta specifica possiamo gestirla internamente noi con i nostri software interni al momento non è nel software pubblico non è ancora inserita la possibilità di selezionare la gamma a 2L quindi questa è una parentesi che ci tenevo a fare perché ha ragione l'ascoltatore se ha provato e non ha trovato la 2L il motivo è quello grazie Rodolfo di aver specificato allora una domanda sempre per Rodolfo importantissima sugli aeroporatori con i refrigeranti a 2L cosa cambia a livello di installazione gli spazi tecnici minimi devono essere maggiorati devo utilizzare dei componenti ATEX devo posizionare il leak detector in una certa posizione diversa allora qui l'aspetto è legato non tanto al prodotto quanto all'installazione quindi nel momento in cui spostiamo il problema da quello che è la compatibilità di prodotto con e la diciamo così l'adeguatezza del prodotto ad essere utilizzato con certi refrigeranti a un problema che invece diciamo ad un assessment che è legato all'impianto l'UVE perde la possibilità di dire la sua nel senso che quello che possiamo fare come produttore di un componente è quello di garantire un componente che sia certificato sia testato e sia sicuro nel momento in cui poi quel componente viene installato in un impianto subentrano tutta una serie di verifiche attenzioni e controlli le N378 e altre normative di sicurezza che diciamo vengono in una fase successiva rispetto a quella che è la compatibilità del prodotto rispetto al refrigerante quindi immagino ma non ho l'esperienza per poterlo dire che avere a che fare con questi refrigeranti soprattutto per le N378 richieda verifiche sul volume dell'ambiente sul controllo delle perdite diversi rispetto a quelli che sono un refrigerante A1 però ripeto non sono legate al prodotto queste attenzioni sono legate all'installazione quello che è importante per un installatore ed un qualcuno che sta costruendo un impianto è assicurarsi che i componenti che sta utilizzando siano sicuri per il refrigerante questo lui può garantirlo dopodiché è chiaro che lui dovrà certificare e verificare l'impianto nella sua interezza installazione e operatività Andrea vuoi giungere qualcosa al discorso appunto dell'uso degli A2L gli spazi minimi da garantire su un impianto leak detector per esempio sono specifici degli A2L giusto? Sicuramente esattamente e tra l'altro devo dire che in molte delle installazioni che stiamo seguendo e sui quali abbiamo fatto delle valutazioni abbiamo visto che chiaramente con degli accorgimenti anche minimi cioè leak detector e una corretta ventilazione si superano in maniera abbastanza semplice anche eventuali risk assessment quindi ci vuole sicuramente molta attenzione sicuramente tutti i componenti dell'impianto come la componentistica fornita dall'UVE o tutto ciò che sono i compressori una volta che sono testate dichiarati conformi per l'utilizzo degli A2L automaticamente escono dalle componenti di rischio degli A2L quindi consentono di fare impianti con quantità sempre superiori di prodotto e quindi ecco diciamo che ormai la strada sugli A2L è tracciata con come dicevo prima nel corso della presentazione delle quantità sempre più importanti soprattutto nel settore della climatizzazione che sta facendo un po' da apripista ma vediamo che anche il settore della refrigerazione sta seguendo questa linea visto l'importanza del webinar andremo ancora avanti ci sono ancora tre domande se mi lasciate in particolare per quanto riguarda appunto il condizionamento Stefano richiede 410 sappiamo che esiste un refrigerante che voi non distribuite che è il 466 esiste veramente questo refrigerante in produzione ok che non distribuisce nippongasis però ci può dire qualcosa questo refrigerante assolutamente sì allora come avete visto nella mia presentazione noi nella tabella dei prodotti abbiamo una casella azzurra dove non c'è scritto niente prima c'era scritto 466 perché in realtà nippongasis era e sarebbe assolutamente in grado di fornire questo tipo di refrigerante se ci venisse fornito ma in questo momento a quello che noi per quello che noi sappiamo e quello che consta sapere il prodotto non è in produzione e non è ancora diventato un prodotto industriale e visti i tempi che sono necessari soprattutto per i compressoristi ma comunque per tutti quanti tutta la filiera e quindi per testare vari componenti vedo ma questa è una nostra opinione vedo anche complicato pensare che questo prodotto possa diventare un reale sostituto del 410 che sicuramente sarebbe gli darebbe una visibilità un'importanza altissima perché è un prodotto non flammable e quindi appartenente alla classe 1 esatto esatto questa è una domanda di Stefano in particolare allora ho ancora una domanda per l'UVE è una domanda invece per tutti e due e poi direi che possiamo chiudere in particolare per l'UVE è una domanda molto semplice del Damarino i vostri scambiatori sono approvati per l'uso con gli idrocarburi allora non c'è una gamma di prodotto specificatamente progettata e quando dico specificatamente progettata intendo standardizzata a catalogo per l'uso di idrocarburi quindi normalmente gestiamo queste richieste come richieste speciali sulle quali facciamo una valutazione col cliente di quelle che sono le caratteristiche la classificazione ATEX dell'ambiente e progettiamo la macchina di conseguenza quindi visto che si entra in un campo abbastanza delicato dove c'è una differenza importante tra diversi refrigeranti e condizioni atmosferiche al contorno non abbiamo nulla di sviluppato ragioniamo di volta in volta con una progettazione specifica che preveda componentistica ATEX verniciature particolari per evitare rischi di incorrenti che possono in qualche modo essere pericolose quindi ecco non esiste una gamma standard viene gestito il progetto col cliente di volta in volta sulla base del fluido impegnato e delle caratteristiche ambientali dell'installazione abbiamo ancora 180 persone qua con noi per l'ultima domanda che è importante è una domanda ambientale ovviamente la persona che la fa ovviamente conosce anche il problema ambientale dei refrigeranti aduelle e quindi ve la faccio è Davide che dice l'impatto del limitazioni imposte da Rich riguardo i FAS che sono i gas refrigeranti furrati e quindi la decomposizione in TFA che avrebbero gli aduelli potrebbero inquinare l'ambiente non so se è chiara la domanda domanda di vista ambientale sugli aduelle e i TFA la decomposizione degli aduelle in TFA cosa ne pensate Andrea e Rodolfo riguardo questo impatto ambientale allora in realtà questa domanda andrebbe sarebbe più corretto farla ai produttori di refrigeranti perché sono loro che hanno effettuato che hanno prodotto questa gamma di nuovi fluidi ho avuto modo di affrontare l'argomento con un cliente in maniera specifica e devo dire che gli studi che mi sono stati forniti dai nostri fornitori perdonate il gioco di parole sono devo dire esaustivi nel senso che provo a spiegarmi meglio tenendo pur conto di tutte le variabili di cui è giustissimo ed è importantissimo tener conto perché l'ambiente dove viviamo dobbiamo salvaguardarlo e forse se lo avessimo fatto prima vivremo in un ambiente un po' meno stressato dal punto di vista appunto della situazione generale in cui viviamo e tenendo conto comunque di tutto questo gli studi dimostrano che l'impatto è estremamente limitato per non dire nullo chiaramente noi come nipponghesi se refrigerant sotto questo aspetto cerchiamo sempre di valutare e di affrontare con i nostri fornitori tutte le considerazioni possibili però direi che ripeto dagli studi visti l'impatto è potrei dire assolutamente inerluente quello di diminuire l'effetto serra che è quello che la 2L fanno con una minima modifica dell'impianto perché ovviamente la monitoria dell'impianto è abbastanza limitata e svolgono il loro compito ovviamente cosa pensi di questo discorso dell'impatto ambientale TFA più che altro allora non ho l'esperienza su refrigeranti per dire qual è il loro impatto diretto è chiaro che con refrigeranti che hanno una caratteristica quella di essere infiammabili bisogna allargare un pochino quello che è l'approccio sistematico che abbiamo utilizzato fino ad oggi nella valutazione di quelli che sono i rischi ambientali dei refrigeranti quindi non consideriamo solo più quello che è l'aspetto legato alla liberazione in atmosfera del refrigerante in quanto componente ma anche di quelli che sono gli eventuali residui di combustione del del refrigerante e quindi anche quelli che sono gli impatti di quella dei residui di combustione quindi con questi refrigeranti dobbiamo un pochino allargare quello che è il campo di però fanno il loro scopo diciamo quello del punto di assolutamente quindi sì diciamo che abbiamo ci siamo lasciati alle spalle il problema dell'ozono quando abbiamo lasciato il cloro da parte nei refrigeranti stiamo adesso cercando di allontanarci dal problema del surriscaldamento globale vediamo quale sarà il prossimo problema da cui dovremo spostarci ce ne creeremo un altro di problema sicuramente sicuramente va bene niente siamo arrivati all'ultima abbiamo ancora due domandine ma in realtà le risponderemo poi individualmente ve le invio di Johnny chiedo scusa Johnny ma ovviamente siamo ormai a 30 minuti l'argomento è importantissimo l'argomento è interessantissimo ringatto veramente Rodolfo di Luve ringrazio Luve ringrazio Andrea di Nippon Gassi ringrazio Nippon Gassi sempre disponibili grazie a voi dacci informazioni ai nostri corsi ai nostri webinar informazioni puntuali informazioni importanti gli argomenti sono di attualità ottima attualità perché sono proprio argomenti in questi giorni quindi ci vediamo presto altri appuntamenti statemi bene tutti mi raccomando tutti bene grazie grazie a tutti buona giornata buona giornata a presto grazie a tutti a rivederci come sempre vi invito a seguire i nostri social per restare aggiornati sui prossimi webinar sui prossimi appuntamenti sulle prossime attività del centro studio galleria di industria formazione e ci aggiorneremo poi nelle prossime settimane con i prossimi appuntamenti buona giornata a tutti arrivederci di nuovo arrivederci grazie 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 a tutti